Ciao gente, benvenuti in un nuovo episodio finalmente serie vincitori e guerrieri e se l'ultima volta stranamente ci siamo lasciati proprio in questo punto in questa terra dei vincitori dove in passato neanche troppo tempo fa abbiamo evocato il vincitore più forte che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo assolutamente attendere il ritorno del vincitore perché è andato a controllare qualcosa ma ho anche controllato la ceste che avete visto ancora diversi episodi fa quando siamo entrati in questa terra e la ceste era precisamente vicino a questo blocco di rocce solamente che la ceste è sparita mi sa che era proprio qui o comunque era qui a qualche parte era appoggiato proprio questo blocco di rocce nessuno sicuro al 100% e ora non c'è più il che significa che qualcuno l'ha presa probabilmente l'ha preso quello che c'era all'interno e poi ha rotto la ceste se è portata con sé in poche parole e sapete quindi questo significa che qui dentro forse c'è qualcun altro oltre a noi e al vincitore a meno che non l'abbia preso il vincitore stesso ma non lo so ci avrebbe detto qualcosa l'avremo anche visto perché siamo entrati qui con lui siamo anche usciti con lui qui quindi è un po' strana questa cosa però sì vi ricordo per questa serie assolutamente il like lasciatelo ora e vi ricordo anche che questa sera attenzione ci sarà una live come spesso accade non qui su youtube ma troverete il link in descrizione non mancate 21 e 30 link in descrizione comunque si dai attendiamo ancora un po' e vediamo se arriva se ritorna il vincitore non sarebbe una cattiva idea anche provare a dirgli questa cosa dell'accesso perché se c'è qualcun altro qua dentro chi è magari un vincitore non pensiamo per forza che sia qualcuno di cattivo eh questa terra dei vincitori potrebbe essere appunto popolata magari anche da qualche guerriero qualcosa del genere non abbiamo esplorato niente qui sappiamo che c'è tutta questa terra questa pianura infinita in poche parole e basta il resto tutto vuoto in fondo c'è il portale strano mentre se il libro qui l'abbiamo preso noi ci abbiamo qui nell'inventario meglio portarlo con noi potremmo analizzarlo magari nasconde qualche altro segreto interessante facciamo in questo modo comunque si stiamo già attendendo da un po' e guardate qua c'è attivata un'abilità da sola significa che forse c'è qualcuno oh mio dio potrebbe essersi qualcuno qui eh facciamo attenzione allora non è di certo un buon segno questo eh non siamo soli qua oltre al vincitore forse c'è anche qualcun altro checca oh che cavolo è quello oh mio dio non è il vincitore quello ok non siamo soli il nostro sospetto era vero bene credo proprio di essere arrivato nel posto giusto oh mio dio mi sa che sta cercando il vincitore lui oh cavolo è arrivato qui non è una bella cosa questa eh non è affatto una bella cosa che cavolo facciamo cerchiamo di resistere perché probabilmente ci attaccherà anche eh e il vincitore chissà dov'è stiamo attenti eh perché questo qui mi sa che è molto forte se mi dice dove si trova il vincitore che è stato evocato qui potrei risparmiarti no ovviamente non glielo diremo eh anche perché è molto importante il vincitore per noi e non vogliamo che gli accada qualcosa però così forse si attaccherà eh e non sarà facile resistere perché temo che sia molto forte anche più di noi ovviamente e non è una bella cosa questa vediamo che dice teniamoci pronti a diventare invisibili eh perché ricordiamoci che abbiamo buone abilità eh dobbiamo sfruttarle lui nasconde qualcosa e quindi non mi interessa è comunque un vincitore e non gli farai di certo del male eh teniamoci pronti a diventare invisibili eh ok c'è il vincitore eh si è fatto vedere da solo la medizione non so se è un buon segno questo perché potrebbe degenerare la situazione eh però ovviamente non ha paura di nessuno lui eh si è fatto vedere non è la scelta più saggia questa secondo me eh però ok e tu chi sei e cosa vuoi? eh noi sappiamo un pochino chi è questo eh l'abbiamo già incontrato eh eh se vi ricordate non in questa serie sappiamo qualcosina non troppo eh ma qualcosa sappiamo sappiamo che comunque è molto molto forte più di noi di sicuro eh oh mio dio vediamo cosa dice comunque vediamo se dice anche la verità non mi sorprenderebbe ecco se dovesse dire cose a caso sei tu quindi infatti non sta nemmeno rispondendo alla domanda va bene sì temo che questo essere stia cercando proprio il vincitore che cavolo sta guardando la Klessidra eh perché sta guardando la Klessidra forse lui sa qualcosa a riguardo non ti resta molto tempo poi non potrai evitare la trasformazione sarà per sempre mostrerai la tua vera forma oh mio dio quella Klessidra indica quindi il tempo rimanente per questa forma e poi quando scadrà il tempo lui verrà trasformato per sempre in quel vincitore ancora più forte beh non è una brutta cosa se ci pensate però a quanto pare questa cosa deve avere anche delle cose negative forse sono arrivato troppo presto vuoi ancora nasconderlo eh ok ok può nascondere quella forma ora sì ma a che serve nasconderla c'è qualcosa qui di strano lo vuole attaccare mi sa cavolo lo attacca non lo so cavolo che deve attaccare l'ho stato confida dall'altro oh mio dio no 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 scusate no dobbiamo fare qualcosa anche noi dobbiamo fare qualcosa no cavolo attenzione che potrebbe controattaccare eh infatti spostiamoci dobbiamo attaccare ora ci ha preso lì maledizione cavolo volo non va bene non va bene siamo deboli siamo deboli oh mio dio così non sarà nemmeno necessario tornare qui basteranno gli altri da fuori per eliminarvi eh ritiene che siamo molto deboli e effettivamente siamo già entrambi in difficoltà eh ma non sapevamo che fosse forte questo e ci ha totalmente fregati anche perché è molto più veloce di noi la nostra invisibilità non basta e quindi gli altri potrebbero semplicemente sconfiggerci questo è da vedere eh dai non facciamoci arrendere siamo comunque vincitori noi non possiamo farsi sconfiggere così in modo insignificante eh non esiste questa cosa non ci arrenderemo facilmente infatti guardate ok cerchiamo di fare qualcosa guadagniamo un po' di tempo attacchiamo anche noi così magari il ministro può usare la trasformazione penso che sia la cosa più salta vogliamo attaccare voi che drittà è questa si vede tutto strano attacchiamo siamo abbastanza veloci sì ok abbiamo tolto anche un po' di salute non male non male non male ok forse si sta per trasformare guardiamo ancora un po' di tempo abbiamo colpito comunque siamo veloci siamo abbastanza veloci per colpirlo se vogliamo non so che abilità fosse quella però ce l'abbiamo quasi fatta eh eh maleditto eh bene stavo iniziando a preoccuparmi voglio essere io a sconfiggere voi comunque sa anche degli antri teme che gli antri ci sconfiggano invece dobbiamo resistere sia a lui ma anche agli antri ovviamente non potremo essere sconfitti così attenzione si sta avvicinando attenzione pronti a usare un'altra abilità dobbiamo essere più veloci di lui e sfruttare bene i nostri poteri oh oh sta arrivando però guardate sta arrivando oi si è arrivato si è trasformato ok ora ci pensa lui oh mio dio e cose ci sono interessanti ora eh eh ok l'ha notato eh l'ha notato vediamo che succede qui perché adesso si inizia a fare veramente sul serio eh bene sei proprio tu eh si stava proprio cercando lui eh stava proprio cercando lui lo sapevamo maledizione vuoi attenzione vuoi attaccare si 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 lo colpisce mi sa che si è mi sa che si che l'ha colpito si 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 l'ha colpito oh mio dio assoluto ti ha tolto cosa per eliminare eh sto per attaccare sto per attaccare che cavolo oi che succede tempo rallentato eh l'ha mancato l'ha mancato eh ok non si fa sconfiggere così facilmente oh mio dio però il danno lo fa il danno lo fa come vedete oh che sta facendo oi o cosa cavolo sta succedendo che cavolo che cavolo di abilità ha usato oi ha recuperato tutta la salute oh mio dio ok non è facile da sconfiggere avete visto non temere ci rivedremo quando sarà il momento ok ok vincitore fortissimo ma questo potrebbe essere anche di più addirittura oh mio dio che cavolo è successo cioè siamo entrati in gioco e già sono cadute mille cose complesse dobbiamo recuperare i poteristi tra l'altro mi sa che abbiamo ancora i bagati perché abbiamo preso tantissimo danno quindi temo che i nostri cuori siano un pochino buggati almeno questa è la mia impressione anche perché guardando in alto destra ci manca qualche potere e alcuni poteri che abbiamo si stanno anche per finire e io che pensavo che fosse tutto finito eh no 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 diciamo che si te sei stato sconfitto ancora tantissimissimo tempo fa sei stato riportato in vita mi dispiace ma abbiamo ancora un po' da fare e ora anche sappiamo cosa significa la clessidra pensavamo che fosse il tempo che rimanesse a lui di vivere e invece la clessidra indica il tempo rimanente per la sua trasformazione quando finisce la clessidra lui verrà trasformato per sempre ora tutto inizia non siamo alla fine non c'è stato una fine ora tutto quanto inizia e la clessidra comunque indica il tempo che ti rimane per avere la forma che hai attualmente ovvero questa poi mi sa che restare trasformato per sempre non che sia male perché comunque è molto più forte però la clessidra indica l'inizio non la fine tutti quanti noi pensavamo che quella clessidra indicasse proprio la fine il suo tempo che il suo tempo di vita in poche parole e invece il tempo che avesse a disposizione per potersi aiutare fare cose invece no assurda questa cosa indica proprio l'opposto torniamo alla base dobbiamo iniziare ad agire ok ok va bene dai torniamo alla base penso che abbiamo un bel po' di cosa da fare tra hunter la vera minaccia che non sappiamo ancora qual è e quest'altra minaccia ancora e più la clessidra e più tutto cavolo ora siamo veramente in un momento abbastanza critico andiamo alla base dai forse se è vero non dimentichiamoci della cesta anche se mi sa che quella cesta non serve neanche dirgli qualcosa l'ha preso chiaramente quel tizio molto probabile è l'unico che c'è qui dentro almeno credo però diciamo che è la cosa più probabile però chissà cosa c'era in quella cesta magari c'era qualcosa di utile per noi maedizione non so magari un totem un amuleto qualcosa non saprei o magari anche delle banali tra virgolette risorse comunque ci stiamo perdendo poteri guardati in alto a destra è già un altro potere che ok però abbiamo guadagnati altri ora stiamo recuperando un po' di energia beh sì comunque avete visto di danno lo facciamo anche noi non siamo così scarsi solamente se ci impegniamo e sfruttiamone bene le nostre abilità possiamo essere molto competitivi se le sfruttiamo bene perché noi abbiamo dei poteri di invisibilità incredibili e anche il nostro attacco è forte cavolo possiamo veramente essere competitivi dobbiamo solamente imparare e usare bene le nostre abilità beh ma cavolo siamo pur sempre figli comunque del primo vincitore e la nostra storia è molto complessa quindi ha senso tutto questo essere forti mi sembra il minimo ecco vabbè a parte quel vincitore esagerato anche perché ha tolto una tantissima salute a quell'altro essere l'avete visto ok mi sa che siamo vicini alla base degli hunter ora vediamo che la base degli hunter sia tipo là da qualche parte vediamo eh se vi ricordate questo luogo credo proprio di sì la base degli hunter è tipo precisamente eccola là che intravede ora ok ho alzato la render perché era un po' bassa messa a 30 se si vede non restiamo qui altrimenti potremmo ecco avere qualche altra noia quindi se andiamo di qua sbrigiamoci e torniamo ecco nella nostra terra sì terra che in realtà quella non è nostra abbiamo praticamente conquistata ancora tanto tempo fa e ora la stiamo ancora più ecco potenziando potenziando le difese ecco di questa terra il che comunque non è affatto male beh avere una terra totalmente nostra totalmente conquistata è sotto controllo eh non sarebbe affatto male è una cosa necessaria per difenderci ok passiamo qui dal tunnel anche se è distrutto poco importa voliamo e siamo già ormai arrivati alla base sì ormai è qui dovremmo vedere anche qualche costruzione in più dovrebbero costruire anche le mura i guerrieri vi ricordate oltre le varie torre ovviamente di torri di osservamento che dovrebbero essersi anche delle altre qui da qualche parte eccone una dietro a quell'albero esattamente sì secondo me adesso questa cosa è molto importante dobbiamo organizzarci bene con le difese e anche come procedere perché non possiamo rischiare sempre di fare una brutta fine dobbiamo veramente prendere il controllo ora dato che dovremo affrontare numerosi nemici Hunter quell'essere anche la vera minaccia di questo universo che dobbiamo ancora vedere che arriverà chissà dov'è chissà chi è dobbiamo veramente organizzarsi bene e iniziare a fare veramente progressi direi per sicurezza di prenderci subito i poteri dunque sì nostra terra sembra tranquilla come avete visto anche la nostra base c'è è perfettamente intatta spero che non sia successo nulla di strano qui anche perché gli altri è già da un pochino che non sentiamo e non vediamo nulla quindi attenzione che non mi piace molto questa cosa però dai prendiamoci i poteri così vediamo anche se il vincitore è già tornato se effettivamente va tutto bene qui quindi anche la vincitrice è qui il torneo effettivamente ormai sarà finito il torneo non dovrebbe durare tantissimo il torneo ecco quindi mi sa che ormai il torneo dovrebbe essere finito vediamo adesso magari ce udirà già ora la dea vincitrice vediamo se arriva qualcuno allora sembra di sì comunque c'è già qualcuno che è vincitore che mi sia tornato molto bene quindi sì questo vincitore a meno che non venga sconfitto non ci abbandonerà molto presto ma cambierà semplicemente forma tra eh non troppi giorni perché comunque la clessidrant è più di metà ora secondo me manca un terzo quindi boh quattro giorni cinque giorni sei forse esagerare e poi finirà e lui si trasformerà per sempre non penso sia una cosa così malvagia deve esserci qualcosa di negativo in tutto questo però dobbiamo agire in fretta dovremo isolarci dagli hunter diciamo che dato che è rischioso andare a affrontare rischiamo di perdere tempo e noi non abbiamo tempo e anche rischiamo di farci male converrebbe isolarsi e concentrarci sui veri problemi e rendere le cose più difficili per quell'essere malvagio ok ok capito eh voglio distruggere la terra che collega tutto oh mio dio l'overworld la terra principale di questo universo la vuole distruggere come? i vincitori si non hanno delle delle abilità così distruttive se ci pensate non abbiamo la forma in cielo come hanno altre dinastie che possono distruggere tutto gli hunter si se ne interno di distruzioni di terra anche i guardiani non scherzano però i vincitori effettivamente pensateci un po' finalmente siete tornati tutto bene? si dai tutto bene si non temere vincitrice tutto bene diciamo che non è stato semplice ma siamo vivi si abbiamo un po' di cose da fare il torneo è finito manca solo uno scontro finale sarà domani all'alba scontro finale mica male mica male poi un nuovo vincitore verrà eletto oh mio dio cavolo è un torneo molto complesso questo perché sapete comunque per essere eletti vincitori bisogna fare grandi cose e a quanto pare in questo torneo qualcuno potrà essere eletto vincitore quindi ci sarà un nuovo vincitore mai visto prima eletto che prima era un guerriero poi agiremo avete già un piano diciamo che il vincitore ci ha già detto qualcosa quello che vuole fare sì ma prima devo controllare un paio di cose ok ok sì dai lasciamo comunque il controllo diciamo il potere il controllo di delle nostre missioni e quant'altro al vincitore più forte perché comunque mi sa che ne sa abbastanza anche se in passato vi ricordate non era proprio così il più astuto riposiamo i prossimi giorni non saranno semplici ok abbiamo un po' di riposo ora i prossimi giorni però ecco l'avete già capito va bene a più tardi dai possiamo andare a presto allora a presto la vincitrice c'è già andata tra poco si andrà anche lui andrà un po' a elaborare controllare qualcosa lavorare meglio il piano e poi mi sa che si entra in azione allora dai ascoltiamo riposiamoci un attimo e mi sa che nel prossimo episodio ecco ci sarà un po' da fare quindi sì spero che vi sia piaciuto questo episodio vi ricordo il like se l'avete lasciato vi ricordo anche che questa sera ci sarà una live non dimenticate il link in descrizione appunto e niente ci vedremo molto presto allora alla prossima